Ragazzi, eccola qua, l'applauso del pubblico per Chiara Polcana! Uuuuuhhh! La rappresentante della Ugreen, eccolo qua, l'applauso del pubblico per Chiara Polcana! A calore con la Ugreen di Canna Minore, Valerio Martidoni! Komoto, Pinot, Mamma, a prendere l'ultimo, tocco ce l'ho! Giorgio Ferrara! Giorgio Ferrara! Giorgio Ferrara! Giorgio Ferrara! L'applauso del pubblico per Stefano Navoli della società di Bergamo Le Barbotte! Grazie. 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 Grazie.